Dopo esserci ritrovati un paio di volte per questo progetto, guardandomi attorno ho sia immaginato quale potesse essere un problema da risolvere, sia mi è apparso davanti questo attaccapanni che è da lì è partita l'idea. Si chiama IT, è una pen di abiti riscaldabile ed è il progetto vincitore del trofeo EIT Toscana e di un premio di 1000 euro. Per non solo riscaldare i propri abiti ma entrare proprio nella vita delle persone, entrando proprio in una routine delle persone proprio private a modo tale da riscaldare sia gli abiti che magari l'area circostante. Ad aver progettato l'idea d'impresa 5 studenti dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo. È un'idea interessante, accattivante, i ragazzi hanno colto molto bene lo spirito del progetto che è di imprenditori a 360 gradi e hanno proposto un oggetto sostenibile che va a incontrare una fetta di mercato anche larga, è stato premiato anche per questo che si appoggia sull'idea anche di materiali riciclabili, di basso impatto e quindi l'idea è risultata vittoriosa tra tante idee a livello regionale. Si tratta di un appendi abiti dal design semplice e accattivante, lineare e compatto dotato di luce, bocchetta e getto d'aria calda attivate tramite fotocellule. È a basso consumo energetico e dunque ridotto impatto ambientale. Cerchiamo di sprecare meno corrente possibile perché non vogliamo creare un prodotto che usi tanta energia perché dopo sarebbe non ecosostenibile e anche i prodotti per creare questo appendi abiti saranno ovviamente ecosostenibili. Gli studenti dell'ITIS Galileo Galilei hanno sfidato altri sette team di aspiranti imprenditori a suon di idee imprenditoriali innovative, concrete ed etiche. Abbiamo parlato con molte aziende del territorio che ci hanno consigliato anche come migliorare questa idea che c'era venuta. Un progetto che ha così permesso agli studenti di scoprire il mondo dell'imprenditoria e dell'etica del lavoro. Sul mondo del lavoro si investe molto, ci sono i progetti di stagi, il PCTO. Sull'imprenditoria stiamo cominciando a muovere dei passi, questo sicuramente è un passo importante grazie anche a Confindustria che ha promosso il progetto insieme agli altri partner. Noi abbiamo aderito e gli esiti si sono visti in positivo.